Torna il magico Natale al parco dell'amicizia di Scafatin, via nuova San Marzano. Le luci dei mercatini natalizi si accenderanno l'8 dicembre alle 17.30 con lo spettacolo di Burattini, la casa di Babbo Natale, la taranta infuocata dei Lucania Power. Il 23 dicembre arriverà Babbo Natale per una serata dedicata ai bambini con spettacoli di magia, animazione e mercatini. Il 26 dicembre grande presepe vivente con oltre 150 figuranti, vivi la magia del Natale con il parco dell'amicizia.